Vi ricordate Robin Hood? È uscito nel 1973 e venne realizzato recuperando scene, musiche e personaggi dai film precedenti. All'inizio degli anni 70 la Disney stava attraversando un periodo difficile dal punto di vista creativo. Il fondatore Walt morì nel 1966 a causa di un collasso cardiaco e negli anni successivi la gestione dell'azienda passò a Card Walker che decise di prendere una direzione differente rispetto al passato e di concentrarsi sui film in live action, cioè con le persone in carne e ossa. Le risorse destinate ai cartoni animati diminuirono e quindi anche gli animatori dovettero arrangiarsi. Uno di questi fu l'utilizzo di scene realizzate nei film precedenti e riadattate ai film che dovevano ancora fare. Questo permetteva di risparmiare in tempo e soldi. Nessun classico Disney è stato influenzato da tutto questo quanto Robin Hood, che uscì al cinema negli Stati Uniti l'8 novembre del 1973, 50 anni fa, e per questo motivo fu poco apprezzato dalla critica, nonostante sia uno dei cartoni animati e film d'animazioni Disney che ci è rimasto più impresso e nel cuore per noi che siamo cresciuti negli anni 90. La storia segue le vicende di una volpe di nome Robin Hood, del suo amico orso Little John e degli abitanti di Nuttingham, che combattono contro le ingiustizie del principe Giovanni, un avido leone che governa al posto di suo fratello, Re Riccardo, partito per le crociate. Quando i critici parlavano di Robin Hood si soffermavano soprattutto sulle scene riciclate dai film precedenti della Disney. In effetti il gruppo di animatori che lavorò a questo film d'animazione riutilizzò alcune sequenze che erano già apparse in film precedenti della Disney. A tal proposito vi faccio vedere la sequenza famosa del Re Fasullo d'Inghilterra, che è un collage di animazioni riprese da alcuni cartoni precedenti a Robin Hood, come Biancaneve e i Sette Nani del 1937, il libro della giungla del 1967 e gli Aristogatti del 1970. Anche la caratterizzazione di alcuni personaggi si basò su disegni realizzati nel periodo precedente all'uscita del film. Lo si percepisce in particolare nei casi di Little John e Sir Beast, che sono identici all'orso Baloo e al pitone K del libro della giungla. Persino i vestiti furono ripresi da classici precedenti. L'abbigliamento di Robin Hood è uguale a quello di Peter Pan del 1953, mentre il principe Giovanni indossa la stessa vestaglia del Re Leone, uno dei personaggi secondari di Pomi d'Ottone e Manici di Scopa, un film realizzato in tecnica mista tra animazione e live action. È uscito nel 1971. Per quanto riguarda il comparto sonoro, le musiche realizzate dal compositore George Barnes furono affiancate da motivetti ed effetti sonori presi da altri cartoni, come gli Aristogatti, la bella addormentata nel bosco e Cenerentola. Inoltre, durante il film ci sono scene che vengono ripetute più volte, come quelle in cui compare il brutto e cattivo sceriffo di Nuttingham. Per tutti questi motivi Robin Hood viene ricordato come uno dei film che riciclò più materiale dai cartoni animati usciti in precedenza. In realtà però non era qualcosa di particolarmente scandaloso all'epoca. Ai tempi di utilizzare fotogrammi di vecchie opere era piuttosto normale, anche perché non c'erano ancora le videocassette né tanto meno internet e non ci si poneva il problema che qualcuno in futuro avrebbe potuto farci caso. Oggi si lavora soprattutto al computer e su tavolette grafiche, ma quando Robin Hood uscì al cinema il lavoro era ancora piuttosto artigianale. Quasi del tutto perché con il passare del tempo furono perfezionate alcune tecniche che consentirono di velocizzare il lavoro, come l'uso di fogli lucidi sovrapposti tra loro per evitare agli illustratori di ridisegnare ogni volta, per ogni immagine, tutta la scena. O anche grazie alla scelta di far muovere solo certe figure in primo piano e di lasciare uno sfondo fisso. Nella prima metà del Novecento il metodo che ebbe maggior successo fu il cosiddetto rotoscopio. In sostanza venivano girate delle scene vere e proprie con attori reali, che poi venivano proiettate su un pannello di vetro traslucido e ricalcate fotogramma per fotogramma per ottenere delle figure disegnate più realistiche possibile. Questi metodi portarono allo standard che divenne negli anni quello dei 24 fotogrammi al secondo. Per dare all'occhio l'illusione di un movimento fluido, gli animatori dovevano per ogni secondo disegnare e colorare 24 immagini, che vuol dire quasi 1500 immagini per ogni minuto. È facile capire quindi perché si cercassero dei metodi per semplificare un po' il lavoro. Insomma, non c'è dubbio che ci siano tante curiosità interessanti dietro questo film, ma fatemi sapere nei commenti se ne conoscete altre che riguardano Robin Hood o anche gli altri classici Disney. Io vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube, attivate la campanellina per restare aggiornati sui prossimi video e seguiteci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni parliamo di cinema e serie tv. Al prossimo video!